Tornano gli appuntamenti con la Settimana delle Castagne nel comune di Marciana, un ricco programma di eventi dedicati alla tradizione delle montagne elbane e dei suoi castagneti insieme ad iniziative collaterali per tutti, come ci ha illustrato il sindaco Simone Barbi. Anche quest'anno, come dall'inizio del mandato, viene fatta la Settimana delle Castagne, quindi voler estendere per una settimana intera a fine di ottobre, cercare di dare un'aiuto alle attività commerciali di chiudere la stagione. Inizia domenica 23 ottobre con la chicca della Marcianella che festeggia il cinquantesimo anno dalla nascita e poi con la festa di autunno nel paese di Marciana. Seguiranno una serie di escursioni nei castagneti del Pucinco marcianese durante la settimana. Il sabato 29 ci sarà Comeremo, quindi una rappresentazione teatrale che è stata fatta durante tutta l'estate e ci riservano l'ultima puntata proprio nel pomeriggio di sabato. E 30, grande conclusione con la classica castagnata nel paese di Poggio. Gli stand gastronomici domenica a Marciana apriranno alle 12. Punto di forza degli appuntamenti, infatti, oltre alle caldarroste marcianesi, i piatti della tradizione a base di castagne. Tutti i piatti tipici della tradizione, quindi a base di castagne, tagliatelle con funghi e castagne, polenta con cinghiale e i dolci tipici a base di castagne, uno su tutti il castagnaccio.